Lui è Matteo, stella del tennis, e sin da ragazzo porta con sé un dono ricevuto dalla mamma, che lo accompagna in ogni sfida e nei suoi grandi successi. Lui e Jacopo, suo fratello e suo primo fan, da sempre condividono la stessa passione e da oggi anche lo stesso porta fortuna. Tim porta a casa tua il primato della velocità, con la fibra fino a 10 giga. Scegli il meglio della tecnologia, sicurezza e assistenza dedicata. Vieni nei negozi Tim. Tim, la forza delle connessioni. Grazie.